Stai chiudendo la tua valigia nel modo sbagliato. Se pensi che basti un lucchetto per sigillare la tua valigia, sappi che per aprirla basta solo una penna infilata all'interno della cerniera. A questo punto il malintenzionato può allargare la cerniera, introdurre la mano, prendere ciò che vuole, richiudere tutto e tu non ti accorgerai di niente fino a destinazione. Una volta uscito dall'aeroporto non potrai mai dimostrare che la tua valigia è stata manomessa e la tua assicurazione non ti risarcirà mai per un eventuale furto. Però con un sigillo di sicurezza Sigiltec posizionato tra il lucchetto e la maniglia nessuno potrà manomettere la valigia senza che tu te ne accorga. Posizione sigillo, scatta la foto della valigia con il sigillo e il suo numero univoco e conservala. In questo modo nessuno potrà usare un altro sigillo per risigillare la valigia. Questo ovviamente non è un sistema antifurto, ma è un utile deterrente che potrebbe persuadere e dissuadere il ladro a non effettuare il colpo. Inoltre, se la tua valigia fosse stata manomessa, avrai una prova inconfutabile per sporgere denuncia direttamente in aeroporto e farti rimborsare dalla tua assicurazione. E il sigillo ti aiuta anche a riconoscere la tua valigia in mezzo alle altre in aeroporto. E con il punto di pre-rottura sarà anche facile rimuovere il sigillo una volta arrivato a destinazione.